E niente, nella diretta della 73esima edizione del Festival di Sanremo è successo un piccolo fuori programma che sicuramente non passerà inosservato per la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed è la deputata che tanto aveva criticato proprio il protagonista del video, ovvero Rosa Chemical, che durante la sua esibizione, dopo aver tuercato su Fedez e dopo averlo tirato sul palco, gli ha dato un bel limone, tutto questo agli occhi della moglie di Fedez, ovvero Chiara Ferragni. Ecco la sua reazione dopo l'esibizione. E voi che cosa ne pensate del gesto? Scrivetelo nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi va iscrivetevi al mio canale per altre news, un grosso abbraccio da Joe Red. Grazie a tutti.